Grazie Presidente. Vede, oggi la consulta non ha solo umiliato una forza politica che è l'unico torto di essere antisistema e per questo dà fastidio. Ha umiliato un intero popolo, un popolo fatto di lavoratori, di pensionati, che è solo l'unico torto di fidarsi di una forza politica sedicente rappresentante di lavoratori, ma che questi lavoratori ha costantemente tradito, ha tradito la loro fiducia, ha tradito il loro voto e si serve dei suoi strumenti come la consulta per fare politica, per tradire la loro fiducia e la loro libertà di esprimersi.